Questo video è rivolto solo ed esclusivamente alle persone che non vogliono darsi da fare, che si fanno mantenere dai genitori e che a 30 anni non vivono da soli. Questo sarà il mio ultimo video, uno dei miei ultimi dei pochi rari video. Io sono un intellettuale, io dico la realtà, la realtà fa male, per quello io sono un personaggio molto criticato, perché ho un pubblico di bambini, ragazzini che si soffermano a commentare perché non hanno un cazzo da fare tutto il giorno, bimbo minchia, persone senza una loro personalità. Se io avessi un pubblico più maturo, invece di soffermarsi, capirebbe il significato dei video. Questo video è rivolto a tutte le persone che non vogliono darsi da fare, ai bamboccioni. in Italia c'è il 60% di persone che non vogliono darsi da fare, di scarsa fatiche. A me va bene, se non avete i soldi per andare via di casa, ma se avete i soldi e se vi offre un lavoro e voi non lo accettate, mentre cazzo c'è la fila che cerca il lavoro e non lo accettate, allora siete degli scarsa fatiche, siete delle persone insulse e dovete andarvi a fare in culo, dovete andarvi a fare in culo. Se non accettate un lavoro, persone che a 30 anni stanno ancora a casa con i propri genitori e si fanno mantenere vergogna, 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 vergognatevi. Ma non a tutti, ci sono anche i bamboccioni che stanno a casa, ma quelli che stanno a casa e potrebbero andare via, ma non ci vanno e rifiutano i lavori che vengono proposti, allora quelli sono dei veri bamboccioni e fanno sprecare soldi. Quelli sono i veri bamboccioni che fanno sprecare soldi. Dovete vergognarvi, uomini e donne, che a 30 anni stanno ancora a casa con i propri genitori, uno a 18 anni se ne deve andare via di casa, massimo 20 anni, via di casa, non bisogna più farsi mantenere dai genitori, scarsa fatiche. E l'ultimissima cosa, perché non voglio perdere altro tempo, inutilmente, andate a farvi in culo a queste persone scarsa fatiche che non vogliono darsi da fare, andate a farvi in culo, 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 andate